Benvenuti su Gossip Italia 24. Prima di raccontarvi cos'è successo, sosteneteci lasciando mi piace al video e iscrivendovi al canale. Per noi è molto importante, grazie. Il caso Liliana Resinovich si presenta come un enigma avvolto nel mistero, con contorni intricati e interrogativi irrisolti. Il 14 dicembre 2021, Liliana è misteriosamente scomparsa, secondo il racconto di suo fratello Sergio. Le circostanze della sua presunta morte sono avvolte da elementi ambigui, secondo Sergio. Questi afferma che la sorella sarebbe deceduta nello stesso giorno in cui è scomparsa da casa. Sergio ha condiviso queste informazioni con le telecamere di quarto grado, sollevando domande sulla sorte di Liliana Resinovich. Si pone l'accento sulla presenza di ecchimosi sul volto e sul seno della donna, suggerendo un possibile alterco o colluttazione che avrebbe causato anche segni sulla gamba e il naso rotto. Sergio respinge l'ipotesi del suicidio e recentemente ha pubblicamente manifestato il suo dissenso nei confronti di Sebastiano Vicentin, il marito di Liliana, invitandolo a dire la verità sulla vicenda attraverso le telecamere di quarto grado. Sergio è convinto che qualcosa cambierà dopo l'autopsia e spera che Vicentin alla fine riveli la verità. Insiste sul fatto che la morte di Liliana Resinovich non debba essere considerata come il tragico epilogo di un gesto volontario. Attualmente, l'attenzione è focalizzata sull'autopsia con la speranza che possa gettare luce sulla vicenda e svelare gli intricati dettagli del caso. La vostra opinione su questa vicenda è importante. Siete d'accordo con le idee del fratello Sergio, che ritiene che si stia nascondendo la verità? Esprimete la vostra opinione nei commenti.